Decorazioni di Natale Fiocchi di neve Prendere un foglio di forma quadrata e piegarlo nelle sue diagonali una, due e tre volte Lasciare una costa omogenea dall'altra parte rimarrà in questa maniera Prendere la parte della costa e con la forbice fare un disegno di questo tipo Il fiocco di neve si forma facendo degli spigoli tagliati da tutti i lati tranne nella parte della costa che deve rimanere integra Anche sulla base si possono fare anche degli spicchi più stretti Il risultato è che quando si apre viene un fiocco di neve Qui abbiamo alcuni esempi I fiocchi di neve E si possono utilizzare anche con carta colorata e si possono usare anche per una tavola bandita Ad esempio Ad esempio si può fare per mettere o una bottiglia un bicchiere segnaposto Ultimo, l'albero di Natale Si prende questa volta un foglio rettangolare Lo si piega a metà e si procede al solito taglio Verrebbe in questa maniera Si può fare in questa maniera o in quella maniera che è tagliato al centro I pezzi ritagliati Si possono mettere alla base dell'albero stesso Grazie a tutti